Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Brunella Bolloli, giornalista di Libero, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, buonasera Luca Iosi, imprenditore del settore della comunicazione e giornalista, buonasera Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera. Allora dopo i fuori onda di Gian Bruno su Giorgio Meloni si abbatte questa volta la tempesta di una sua telefonata molto imbarazzante, subito dopo la pubblicità. Allora vediamo insieme alcuni passaggi di questa telefonata di 13 minuti e mezzo di Giorgia Meloni che è convinta di essere al telefono con il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, mentre in realtà la Meloni è stata vittima di uno scherzo di due sedicenti comici russi e la telefonata risale al 18 settembre scorso. Guardate. Do you think that what is happening in Niger, for example, is something against France? We are trying also to tell them we have to be, we have to be, we don't have to do things that can create more problems than those we already have. The European Commission says that understand it. But when you ask them to take money, well, that becomes more difficult. It is also about Tunisia. I organized this memorandum between Europe and Tunisia that President Zahid signed with us in the middle of July, but he didn't see one euro yet. There is a lot of fatigue, if I have to say the truth, from all the sides. The problem is to find a way out which can be acceptable for both without destroying the international law. You know what I think about Libya. No, maybe you don't know, but we could discuss it for hours, my friend. All right, Marco Travaglio. Do we have to do it or do we have to do it after what happened? Well, the first thing to do is to be rid of, obviously. It seems like a via of me, from Tototrufa, 62, Fantozzi contro tutti. When Fantozzi puts it on the nose, on the tongue, 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 on the tongue and on the tongue, on the tongue, on the tongue. For not to be able to get mad by the mega-direttors, which immediately, in reality, we have to reflect and think about the aspects serious, and also a little bit of concern of this phone. First, the level of security and the safety of Palazzo Chigi seems rather permeable, since the first one that passes, with a name of fantasy, comes immediately in communication with the President of the Consiglio, which leaves for at least a quarter of an hour of the sort of Italy, of the UN, of the European Union, of Africa, of Ukraine, of Russia, of France, without knowing who is talking about. And the other thing, very serious, is that we have to make the scherzi telefonics to La Meloni to tell them the truth, which is that the political migratoria is a failure, and this was a little bit said, in the last few years. But on the issue of Ukraine, there is a clamorous vote, which has never been communicated to us, in the end of the year. It seems to be heard of us, that we have been massacrating and lapidating like pacifinti or putiniani for a year and a half, when we said that the only way was the only way to the negotiations based on a compromise that contented both parties, which means Ukraine and Russia. and the Meloni, all the time that went to the parliament, has said exactly the contrary. The support military to Ukraine until the final victory, the only right place is that that is not with Putin, and that begins from the total retreat of the Russian troops from Ukraine. It's opposite to what that our President of the Consiglio has said today that what who believed to be the head of the Commission of the African Union was one of the two comics that are known to have already been done by Kissinger and other capes of State. All right, Aldo Cazzullo, what effect has done? Because, intanto, Palazzo Chigi ha dovuto dire qualcosa oggi è entrervenuto dicendo rammaricato per essere stato tratto in inganno da un impostore. La Schlein in serata ha detto che è sconcertante per il governo e per l'Italia. È un problema di imbarazzo generale, planetario, di sicurezza, che cosa, che opinioni ti sei fatta? Guarda, ti confesso che anch'io come Marco ho pensato subito a quando Fantozzi telefona al Visconte Cobram per evitare di partecipare alla gara ciclistica, ma mentre Cobram riconosce subito la voce di Fantozzi, purtroppo non possiamo dire la stessa cosa del consigliere diplomatico di Palazzo Chigi e della Meloni stessa che non soltanto non hanno riconosciuto la voce di Vovane e Lexus, ma hanno veramente pensato di parlare con il presidente della Commissione della Commissione dell'Unione Europea. non africana, scusate. In realtà, purtroppo non c'è niente da ridere perché, intanto, che in un momento così drammatico per la nostra storia, con due guerre in corso ai confini dell'Europa, davvero, sia così facile poter interagire con la Presidente del Consiglio, non soltanto beffando il servizio diplomatico, ma anche proprio un minimo di sicurezza. quando ha un giornale telefona direttamente un centralino di un'istituzione, si fa un minimo di verifica per controllare che veramente stai parlando con... cosa che è incredibile che non abbia fatto la Presidenza dei Consigli. Ma anche, è vero che, poi comici, insomma, è difficile fare, non so se la satire è così libera in Russia, ma in ogni caso, queste persone, è vero che hanno già beffato, ad esempio, Sanchez, che è un primo ministro di grande esperienza. Però, la Meloni, che parla per un quarto d'ora, aprendosi anche, dicendo in effetti cose che non aveva mai detto in pubblico, con una persona che palesemente non conosce, perché all'inizio fanno non l'accento svedese, ma l'accento africano, ma poi si abbandonano quasi i due. Sì, diciamo, l'interlocutore finto leader dell'Unione Africana comincia ad avere un forte accento non africano, nel suo inglese. Cioè, un po' tutti avevamo un po' timore, pur nella simpatia umana, che non le viene negata, che la Giorgia Meloni fosse inadeguata al ruolo. Fino adesso, grosse sbandate, tranne forse quando disse che le tassi erano un pizzo di Stato, frase per me inaccettabile, tanto più detta che Catania è un posto dove sono morte delle persone per non pagare il pizzo. Grossi scivoloni, forse non le aveva fatti. Questo è veramente una cosa che resterà, perché ha dato un'idea, purtroppo, di inadeguatezza, fin anche nell'uso dell'inglese, sarà difficile cancellare. Sì, anche lì avevamo qualche problema. Luca Iosi, a te cosa ti ha colpito di questa intervista? Mi ha colpito la durata, mi ha colpito il fatto che alla fine dello scherzo gli stessi protagonisti fossero un po' stanchi, per cui siamo partiti con un accento tendenzialmente politicamente scorretto, perché facevano finto accento africano per poi finire con un blasonato accento slavo. non è che mi abbia colpito, mi ha ricordato che ormai siamo entrati in un'epoca in cui la falsificazione è uno degli elementi più facili da costruire ormai a livello consumer, di falsificazione della voce, di falsificazione di un'infinità di dettagli che in questa vicenda ho così un forte sospetto mi interessa poco la parte della performance politica perché sono portato a pensare che comunque in una dimensione di apparente riservatezza un leader politico possa anche far finta di concedere dell'intimità. Con chi conosci forse dicendo between me and you tramete ma la cosa che mi colpisce oggettivamente è qualche segreteria di presidenza del Consiglio l'ho conosciuta negli anni dubito che i sistemi siano così perforabili credo che scherzi di questo genere non vengano organizzati con una semplicità così anche quando fai scherzi a parte hai bisogno di una struttura molto complicata per arrivare a un sistema e soprattutto se lo scherzo è di tipologia reiterata perché stai prendendo una serie di personaggi rilevanti ergo essendo la categoria dei comici in Russia non uno dei mestieri più diffusi e intenzionalmente riconosciuti cioè dubito che loro sarebbero in grado di fare uno scherzo del genere a Putin ed essendo e anzi ho il vago sospetto non voglio essere accusato di anti-putinaggio ho il vago sospetto che uno scherzo di questo genere lo fai con una struttura di Putin ma non lo fai contro quindi stai suggerendo che insomma come a molti pensano e anche dicono che insomma stiano lavorando in realtà per questi due comici per i servizi segreti di Putin Brunella Bollolli e qui chi è che ci fa una figura migliore? Giorgia Meloni ne esce bene ne esce bene l'Italia che cosa possiamo dire? ma dunque innanzitutto voglio dire che è molto interessante quello che diceva Luca Iosi perché non è così diciamo scontato che si sia trattato uno scherzo è vero che sono due comici ma sono due comici russi e quindi c'è un sospetto diciamo in più ricordiamo forse Travaglio l'ha dimenticato non l'ha letto che però anche il presidente del Copasir che è il comitato di controllo dei servizi segreti ed è un esponente del partito democratico cioè Lorenzo Guerini oggi si è espresso con una certa preoccupazione su questa telefonata cioè dicendo occhio perché forse bisogna e a me che cosa me ne può fregare scusa Brunella scusa Brunella io adesso quando parlo devo tener conto di quello che dice Lorenzo Guerini a me non me ne può fregare di meno di Lorenzo Guerini io dico quello che penso Lorenzo Guerini dirà quello che pensa tu di quello che pensi lasciamola finire se posso finire dato che mi tira in ballo come se io dovessi obbedire a Guerini sai a me che me frega di Guerini quando nessuno obbedisce a nessuno lasciamo finire Brunella Vololi se posso finire il concetto la questione è che oggi c'è stata una corsa da Conte ad altri esponenti del partito democratico alla sinistra a dire sostanzialmente appunto come hai detto tu come ha detto Travaglio che siamo in presenza di Totò Truffa insomma cose che ricordano molto gli scherzi della televisione quello che stavo dicendo è che invece questa telefonata è stata presa sul serio dal Copasir quindi non è diciamo semplicemente uno scherzo poi se vogliamo tornare invece alla domanda iniziale cioè chi ne esce meglio allora sicuramente io credo che a Giorgia Meloni questa cosa non sia molto piaciuta però da quello che si evince lei non ha detto delle cose contrarie alla sua politica estera non è vero che ha come dire rinnegato tutto quello che fa per l'Ucraina anzi mi pare che lei abbia detto la via sì è quella negoziale ma noi stiamo facendo di tutto per aiutare gli ucraini che poi la linea del governo quindi non è che si è contraddetta cioè e a un certo punto quando questi due fantomatici comici russi e sottolineo russi hanno poi tirato in ballo Bandera che non è Antonio Banderas ma che è un nazionalista ucraino della estrema destra lei lì ha capito che forse qualcosa non andava quindi non credo che sia stata così diciamo zimbello di questi due poi se lo scopo nazionale è quello sempre di dire che il governo sbaglia insomma comunque ricordiamo che hanno un grande colpo di abilità di fortuna sicuramente se ci sono delle responsabilità dovranno essere accertate questo sì ma ricordiamo e tra l'altro l'avete fatto anche voi che questi due hanno già beffato Merkel, Sanchez Sì Merkel non era più cancelliera Kissinger aveva 99 anni e poi Sanchez si è comportato in modo estremamente istituzionale tant'è che questi due sedicenti comici in un'intervista esclusiva alla pressa lo dicono che la Meloni sembra avere le sue idee è stata molto così easy come si direbbe coerente quello non l'hanno detto perché loro non è che entrano nella politica nella politica nazionale interna italiana comunque Marco Travaglio il punto però non è se siano russi o francesi o probabilmente in Russia lavorano per qualcuno come suggeriva Iosi ma l'Italia in tutto questo ci fa una figuraccia o no? perché non ho ancora capito questo oppure archiviamo come scherzi a parte via ma io tra secolo nel leggere le versioni che dà Palazzo Chigi è un complotto russo peggio mi sento vuol dire che non abbiamo nessun filtro per evitare non un complotto raffinatissimo un complotto fatto da Fantozzi incrociato con l'ambasciatore del Katonga in arte Totò perché se basta telefonare a Palazzo Chigi per farsi passare il Presidente del Consiglio dando qualunque identità cioè voglio dire immaginiamoci con tutti i mezzi che ha la cyber intrusività e tutte le tecnologie ma non c'è bisogno di nessuna tecnologia basta telefonare dire sono l'ambasciatore del Katonga ti passano la Meloni e quella come se fosse la tua migliore amica ti spiffera tutto quello che non dice in pubblico coerenza è incoerenza totale io mi sono segnato tutti gli interventi che ha fatto la Meloni in Parlamento che è il luogo ufficiale dove viene esposta la linea di politica estera e di politica interna del governo e non ho trovato nulla che abbia qualcosa a che fare con l'espressione che lei dice all'ambasciatore del Katonga pensando che sia lui e non che siano i due comici perché lei dice la controffensiva dell'Ucraina non sta andando come ci si aspettava ce l'ha mai detto? mai serve una via d'uscita accettabile per entrambe le parti cioè un compromesso fra la Russia e l'Ucraina cioè una trattativa con Putin e con Zelensky ce l'ha mai detto? no chi lo proponeva in Parlamento veniva sbeffeggiato il 13 dicembre dell'anno scorso quando si è votato l'ultimo decreto per mandare le armi per un altro anno all'Ucraina la Meloni se l'è presa quei 5 Stelle che hanno votato contro dicendo cosa intendete per avviare negoziati? la parola negoziati è vietata in Parlamento nella telefonata con l'ambasciatore del Katonga è lei a dire che al momento opportuno la proporrà l'Ucraina deve arrendersi per ottenere la pace o convincete voi i russi a ritirarsi dall'Ucraina offrendogli il reddito di cittadinanza questa è la posizione del governo della Presidente Meloni davanti al Parlamento poi c'è la telefonata nella quale dice l'opposto cioè che bisogna trattare con Putin fermare la guerra che può durare anni e bisogna trovare una soluzione che soddisfi la Russia e l'Ucraina avete mai sentito dire questo? Sì nelle piazze pacifiste insultate dalla Meloni il Movimento 5 Stelle insultato dalla Meloni gli analisti come Orsini e altri che sono stati svillaneggiati il professor De Masi che a giugno poco prima di morire fu insultato come vigliacco dalla Meloni per avere detto queste cose quindi non c'è nessuna coerenza c'è come al solito quello che si dice in pubblico e quello che si pensa e si dice in privato incautamente a una persona che non conosci che fosse il presidente della commissione dell'Unione africana o che fossero i due comici questo è un vizio della politica che è insopportabile perché se almeno evitassero di insultare chi dice le cose che loro pensano e dicono in privato glielo si potrebbe personare perdonare ma non è che puoi continuare a insultare chi la pensa come te soltanto perché dicono le cose che tu non hai il coraggio di dire e questo è il punto Aldo Cazzullo e poi Luca Iose anche perché ricordiamo abbiamo detto all'inizio che questa è comunque una tempesta molto sgradevole che si abbatte su Giorgia Meloni due settimane dopo i fuori onda più che imbarazzanti per usare un eufemismo di Giambruno che poi ha diciamo è ormai adesso l'ex fidanzato l'ex compagno di Giorgia Meloni c'è un problema di adeguatezza al ruolo che ricopre da parte di Giorgia Meloni? Sì continuo ad essere colpito Lili dalla discrepanza tra l'immagine e anche la sostanza la simpatia il sostegno popolare che ha la Meloni e quello che ha il governo il governo è molto modesto lo si comincia a capire i risultati non si vedono la situazione economica è molto difficile e questo la gente lo comprende lo sente sulla sua pelle nella sua vita questo non vuol dire che le elezioni europee andranno male per il partito di Giorgia Meloni penso che andranno bene Salvini si è capito che non è il cavallo vincente Berlusconi è morto la destra lì andrà a finire però insomma il governo è in difficoltà la gente lo sente lo percepisce l'immagine pubblica di Giorgia Meloni è ancora forte c'è ancora una simpatia nei suoi confronti la sua bella storia personale il fatto che sia la prima donna Presidente del Consiglio non vede una crisi della sua figura i governi non cadono sulle figuracce i governi cadono sull'economia non credo ripeto che questo accadrà nel 2024 ma prima o poi accadrà e quando accadrà tutte queste cose Giambruno l'ambasciatore del Catonga Leonardo Apash il principe archiviamolo così il principe abusivo marito della Santanchè il capo della comunicazione del Lazio che difende quello che ha messo la bomba a stazione di Bologna e l'assessora siciliana che rivendica la storia del padre mafioso tutte queste cose insieme nessuna delle quali magari in sé sposta un voto si ritorceranno contro questa stagione politica e questo governo a meno che la Meloni non prenda in modo più deciso le distanze dal suo passato e non privilegi la competenza all'appartenenza alla militanza cosa che finora non ha fatto Luca Iosi perché ci racconta molto sulla gente della quale si circonda Giorgia Meloni anche questo episodio della telefonata scherzo chiamiamola così e diciamo possiamo dire che a Giorgia Meloni è stato dato viene dato un grande credito in fondo perché lei peraltro si è sempre dipinta così come l'underdog che ce l'ha fatta come una secchiona che studia tutti i dossier che non è ricattabile che ci mette la faccia eccetera eccetera viene fuori un po' qualcos'altro anche da queste telefonate cambia qualcosa dopo questa telefonata? non lo so non so se nel suo pubblico cambia qualcosa nei suoi elettori rispetto a questa telefonata secondo me c'è una cosa molto vera e giusta in quello che dice Travaglio su che è il portato della società in cui noi stiamo entrando cioè dove comunque tu devi fare quello che dici cioè ma non per una ragione di morale imprendibile cioè Bosch aveva fatto un quadro addirittura sopra che era cave cave Deus videt stai attento perché Dio ti vede oggi viviamo in una società dove se non ti vede Dio per chi non crede a Dio ti vede la tecnologia ti ascolta la tecnologia ti beffa la tecnologia può addirittura alterarti la tecnologia oggi il problema è il contrario cioè certificare che quello che io e te stiamo dicendo sia esattamente quello che noi stiamo dicendo e non sia stato alterato o modificato in qualche modo ma certo a monte è meglio che tu tenga una certa coerenza tra quello che dici in pubblico e quello che pensi in altre situazioni ve lo dice uno che ha visto tante stagioni della politica e sa che prima di arrivare a una sintesi della politica è corretto fare tante bozze e avere tante idee diverse prima di arrivare a quella sintesi ma una volta che l'hai scelta devi essere coerente rispetto a quelle posizioni E quindi nel caso di Giorgia Meloni? Quindi probabilmente una parte di quella telefonata produrrà delle evoluzioni Evoluzioni per dire? Beh, rispetto alle posizioni prese sulla guerra in Ucraina è evidente che ci sono delle posizioni nuove come le ha fotografate Travagli quindi il negoziato Brunella Bolloli cambierà qualcosa dopo questa telefonata? Non lo so io non ho queste certezze nel senso che non credo che domani mattina Giorgia Meloni cambi la sua posizione nei confronti del del conflitto tra Russia e Ucraina dica come magari qualcuno filo russo vorrebbe sentirsi dire che viene quindi lasciata l'Ucraina allo sbando perché adesso bisogna invece cambiare totalmente strategia o che non verranno più appoggiate diciamo le politiche appunto filo occidentali atlantiste che sono quelle che la Meloni ha appoggiato fin da quando si è insediata ma ancora prima in campagna elettorale cioè non credo che questa telefonata sposterà la politica estera della Meloni perché ribadisco mi pare che invece se si sente la telefonata e non le si attribuiscono delle parole che non ha detto la linea è sempre la stessa è la linea di aiutare gli Ucraini non è che ha detto adesso diventiamo filo russi adesso noi trattiamo con Putin questo non l'ha detto Scusa Brunella Brunella Bolloli però scusami scusami se ti interrompo un secondo noi qui a 8 e mezzo abbiamo sempre cercato in questo anno e mezzo e più ormai da quando è cominciata la guerra ucraina di non dividere il mondo e lo facciamo in generale su tutti i temi in bianco e nero buoni e cattivi quindi non è che chi propone un negoziato e un cessate il fuoco questo vale adesso anche per la guerra in Israele sia per forza di cose filo russo o filo Hamas diciamo le situazioni sono un po' più complesse no è vero però visto che sono stati tirati in ballo insomma delle posizioni non so del professor Orsini o di altri ecco non mi pare che la Meloni dopo questa telefonata abbia una posizione simile a quella del professor Orsini che Orsini ha tenuto magari sulla guerra non mi pare sarebbe molto strano se domani cambiasse così ecco bene allora domani sentiremo se la Meloni sentiremo se domani la Meloni diventerà la professoressa Orsini caro Marco Travaglio e dirà le stesse cose che ha detto Orsini vediamo se la Meloni è quella del Parlamento o è quella della telefonata starà a lei scegliere ci sono due Meloni vediamo domani quale prevale io credo che anche sui migranti lei ha parlato ad esempio della telefonata della situazione insomma di aiutare l'Africa è la stessa cosa che va dicendo da mesi il famoso piano Mattei peraltro questa telefonata è da inquadrare nella data del 18 settembre che è un momento particolare c'era un viaggio a New York prima del viaggio a New York per l'ONU l'Assemblea Generale dell'ONU ma bisogna inserirla anche in questo contesto per questo lei ha parlato con questo fantomatico presidente africano Marco Travaglio ma quando Luca Iosi dice che ci vuole coerenza anche per i politici e in generale per le persone pubbliche immagino tra quello che si dice in pubblico e quello che si dice in privato è come se la privacy non esistesse più su questo fronte e Giorgia Meloni ha già pagato un prezzo molto alto no? con il suo ex fidanzato Gian Bruno e fuori onda e tutto quello che ne ha seguito ma la privacy è una cosa importantissima basterebbe intendersi su che cos'è la privacy è che non si va a ficare il naso dentro la casa dentro i rapporti privati delle persone le persone le persone che ricoprono ruoli pubblici soprattutto quello più pubblico di tutti il capo del governo italiano e quelli che svolgono anche ruoli similari hanno una privacy ovviamente ridotta nel caso Gian Bruno tutto si è svolto in uno studio televisivo non si è svolto nella camera da letto o nel tinello di casa Meloni e questa telefonata si è svolta a Palazzo Chigi quindi la privacy non c'entra niente oggi certamente con i social e le tecnologie ci sono più possibilità di beccare l'incoerenza dei politici il caso della Meloni di oggi è clamoroso perché come abbiamo dimostrato dice in privato l'opposto di quello che dice in Parlamento Marco Travaglio la privacy non c'entra niente c'entra però la coerenza a proposito di coerenza mi ricordo che qualche giorno fa la Meloni ha detto che l'Italia ha toccato il punto più basso della sua reputazione estera quando Conte fu beccato alla buvette di Davos a parlare con la Merkel e poi l'hanno beccata a parlare con l'ambasciatore del Catonga anche su questo proviamo a immaginare se fosse stato preso un altro premier a subire quello scherzo ridicolo che cosa direbbe oggi la Meloni che cosa direbbe oggi Brunella Bolloli Brunella Bolloli e poi semplicemente che Conte all'epoca fu beccato a parlare male della sua stessa maggioranza di governo a rispondere a una domanda della Merkel che gli chiedeva che cosa succedeva nella sua maggioranza stava parlando col cancelliere tedesco non con l'ambasciatore del Catonga e diceva non ce la faccio più diceva delle cose anche sui 5 Stelle quindi è leggermente diverso sì certo stava parlando con il cancelliere tedesco allora oggi ha detto anche con due comici allora Giorgio Meloni oggi in questa conversazione ha parlato anche della Francia e quindi di Macron rispetto al Niger al golpe in Niger quando ha detto tramete ti posso chiedere eccetera quindi Aldo Cazzullo come la vogliamo chiudere Luca Iosi questa questa conversazione nostra su questo incidente non se ne parlerà più domani fine no temo che se ne parlerà ancora lungo anche perché la Meloni si è quasi sfogata con chiamiamolo l'ambasciatore del Catonga ormai ufficiale dicendo non mi vengono al telefono e poi dice ma non è che sta roba in Niger va un po' contro Macron dai secondo me è sbagliato cercare la complicità di un intervolto anche ammesso che fosse veramente il presidente dell'Africa però palesemente non sapeva chi fosse non lo conosceva cercare la sua complicità contro Macron che può anche stare antipatico ma comunque il presidente della Repubblica francese eletto due volte da una netta maggioranza di cittadini non è una mossa lungimirante aggiungo ancora una cosa oggi su Repubblica c'è un pezzo di Tommaso Ciriaco che conversa con Ignazio la russa e non è una conversazione rubata la russa è un politico molto esperto e dice ad esempio del premierato che gli sembra questa idea per cui beh si può dare l'incargo ma ha un parlamentare della stessa maggioranza e c'è una cosa troppo arvigogolata o facciamo il premierato o facciamo la sfiducia costruttiva con cui peraltro sono andati con la sfiducia costruttiva sono andati al governo sia Kohl sia suddetto Sanchef che adesso forse riesce di nuovo a formare il governo fermando Vox e Partito Popolare beh insomma che la russa esprima un'opinione così secca critica sul premierato nel momento in cui il governo lo vara anche questo mi sembra significativo c'è qualcosa che non va Luca Iosi telegrafico ma l'Italia ha bisogno di un premier o una premier più forte uomo o donna solo al comando è questo di cui gli italiani hanno bisogno e sentono il bisogno? Io credo che gli italiani ne parleranno a lungo di questa questione perché in questo momento non mi sembra che ci sia il clima migliore per affrontare un punto così focale per il paese quindi una riforma costituzionale che preveda dei cambiamenti così forti sospetto che non ci sarà un terreno molto adeguato per affrontare una riforma così pesante Lo vedremo perché tanto dopodomani la Meloni porta questa riforma costituzionale in consiglio dei ministri però intanto ecco all'Italia e questo ce lo ricorda il nostro Paolo Pagliaro un primato non ce lo toglie nessuno guardate quale per non offendere nessuno l'evasione fiscale si chiama tax gape che sarebbe la differenza tra le imposte dovute e quelle effettivamente versate giorni fa si è saputo che nel Regno Unito il tax gape ha toccato il minimo storico cioè il 4,8% significa che il 95,2% delle imposte è stato regolarmente versato in Italia la media delle tasse evase negli ultimi vent'anni è del 32,2% tutte le statistiche dicono che i lavoratori indipendenti come professionisti artigiani e commercianti evadono in media il 70% dei loro redditi e ricavi cioè dichiarano solo il 30% del dovuto in Italia ogni anno lo stato viene derubato di circa 100 miliardi tra mancate entrate tributarie e mancate entrate contributive nel 2020 e nei primi mesi del 2021 si è evaso un po' meno perché l'economia si è fermata in seguito al coronavirus l'Italia è primatista europea per quanto riguarda l'evasione dell'IVA con una media di 33 miliardi l'anno ultimamente il gap si è ridotto grazie allo split payment alla fatturazione elettronica e alla crescente diffusione delle transazioni con carta di credito novità alle quali il partito degli evasori si era tenacemente opposto secondo il centro studi itinerari previdenziali il complesso dell'economia sommersa tra sottodichiarazioni e il lavoro irregolare nel 2021 valeva 174 miliardi in aumento di 16 rispetto al 2020 ma con un'incidenza sul PIL stabile al 9,5% la pace fiscale invocata dal ministro Salvini si può raggiungere solo costringendo gli evasori a deporre le armi e siamo in chiusura grazie Brunella Bolloli grazie Marco Travaglio grazie Luca Iosi grazie Aldo Cazzullo e lasciamo vi lasciamo Aldo Cazzullo la sua giornata particolare che ci porta al 28 marzo 1300 il giorno in cui Dante entra all'inferno Virgilio Contogolino Paolo Francesca Ulisse e naturalmente la protagonista femminile in ogni puntata c'è una protagonista femminile e questa volta è ovviamente Beatrice quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci a presto a presto a presto a presto